Benvenuti sul canale Le News Kiwi Tu! Oggi parliamo di mattino 5, in particolare il bacio avvenuto tra Cristian Imparato e niente poco di meno che Franco Terlizzi, il padre di Michael che è all'interno della casa del grande fratello. Siccome si continuava a parlare della questione di Michael gay oppure no, etero omosessuale, etero omosessuale Franco ha voluto accogliere la proposta scherzosa di Cristian Imparato di scambiarsi un bacio per mettere a tacere queste voci e così hanno fatto, si sono scambiati un bacio a stampo in diretta. Cosa ne pensate di questo gesto? Per me non c'entra nulla per mettere a tacere queste voci perché questo bacio scambiato tra Cristian e Franco, cosa c'entra? Ma lo sanno loro! Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e noi ci vediamo con le prossime news!